Ecco come una favola verrebbe da dire la Diana Spencer, per tutti Lady Di, quarta di 5 figli di una famiglia abbastanza alta di Londra, incontra Carlo che aveva già il cuore occupato, lo incontra a una rappresentazione teatrale e di lì nasce l'amore, di lì nasce questa storia di questa donna, nascono i due figli attualmente, sono gli eredi al trono e nasce anche la tragedia, dei primi screzi, delle prime separazioni, sempre dietro i fotografi e questi fotografi determineranno o quantomeno testimonieranno anche la loro morte, era con Lafayette, stava sfuggendo appunto ai paparazzi in quella maledetta galleria francese e rimasta coinvolta in un incidente mortale, non c'è stato né scampo né per lei né per Lafayette e lì sono rimasti insieme per sempre.